studiare e vivere a siena è un'esperienza che si ricorda per la vita lo so perché non sono solo il rettore di quest'ateneo ma anche un ex studente fuorisede a 18 anni dopo le scuole superiori mi sono trasferito a siena dalla sicilia ed è stata la migliore decisione che potessi prendere qui e dove ho studiato e dove si è sviluppata la mia carriera professionale a chi vorrebbe studiare a siena direi di non avere paura comprendo bene le vostre preoccupazioni e i vostri dubbi la scelta del corso di laurea dell'ateneo non è quasi mai semplice tuttavia vi assicuro che il campus universitario di siena è un ambiente ideale in cui crescere e sviluppare il proprio potenziale a dircelo sono gli stessi laureati e laureate 9 su 10 si dicono pienamente soddisfatti dell'esperienza di studi caratterizzano l'università di siena la qualità e l'interdisciplinarità dei percorsi di studio questo insieme alle numerose attività formative trasversali rende i nostri percorsi di studio molto interessanti perché mettiamo insieme hard soft skills and digital skills la global citizenship e la sustainability inoltre gli studenti sono eseguiti e supportati in modo costante dai docenti con i quali possono avere un dialogo ed una relazione diretta grazie al rapporto numerico favorevole di un docente ogni 10 studenti l'offerta formativa comprende 18 corsi di studio e lingua inglese e 9 che permettono di ottenere il doppio diploma con prestigiosi atenei europei e non solo questo fa sì che l'università di siena sia un campus internazionale con oltre l'8 per cento degli iscritti che provengono da ogni parte del mondo inoltre proprio perché crediamo in una formazione globale offriamo ai nostri studenti numerose opportunità di studiare all'estero grazie a programmi di mobilità internazionale le opportunità di socializzazione per le studentesse e gli studenti non mancano poiché i campus di siena arezzo grosseto e san giovanni valdarno sono perfettamente integrati in città a misura duomo dove facile costruire rapporti di amicizia duraturi siena non offre la confusione ma la sicurezza e la tranquillità di una città in cui è facile spostarsi a piedi e attraversare il centro storico in soli 20 minuti allo stesso tempo siena è un patrimonio storico culturale unico con numerose opportunità per vivere all'aria aperta in uno dei territori meno inquinati d'europa seguite le vostre inclinazioni e le vostre passioni e se non siete ancora sicuri sulla strada da intraprendere non abbiate paura di rivolgervi a servizi di orientamento agli studenti tutor e ai docenti siamo qui per darvi tutti gli strumenti per fare la scelta giusta e per aiutarvi a vivere al meglio gli anni universitari vediamo il nostro benvenuto più sentito all'università di siena e vi aspettiamo in aula grazie a tutti grazie a tutti